dai dai su attraversa cammina velocemente che ce la puoi fare dai pian piano su allora dovete sapere che qui a londra gli scarafaggi sono molto presi in considerazione soprattutto quando attraversano le strisce pedonali ma questo è una cosa che io vi racconterò il prossimo giovedì 24 su Radio Godot london calling vi aspetta ed insieme a me ovviamente il mister ciurro sarà con voi